Scuola, laurea e titoli di studio. Oggi ti leggo un piccolo paragrafo tratto da questo libro, L'almanacco di Naval Ravikant. È un libro che mi ha suggerito un mio non-ascoltatore, uno che si vede i miei video su YouTube, Carlo, che ringrazio, grazie Carlo. È un libro interessantissimo, ne ho letto al momento solo 67 pagine, ma nei prossimi giorni tornerò nuovamente su questo libro, già in queste pagine ci sono un sacco di spunti che voglio condividere con te. E oggi ti voglio leggere una cosa che riguarda lo studio, la laurea, percorsi di studio in generale e apprendimento. La competenza che più di ogni altra ci permette di diventare ricchi è la capacità di apprendere sempre. È necessario sapere come imparare ogni cosa che desideriamo imparare. Secondo il vecchio modello, per diventare ricchi è necessario studiare per 4 anni, prendere una laurea e lavorare come professionisti per 30 anni. Ma le situazioni adesso cambiano velocemente. Oggi è importante imparare una nuova professione in 9 mesi e 4 anni dopo quella professione sarà obsoleta. Nel giro di 3 anni molto produttivi, però, potete diventare molto ricchi. Oggi è molto più importante essere in grado di diventare esperto in un settore completamente nuovo, in un periodo tra i 9 e i 12 mesi, che è non aver condotto i giusti studi molto tempo fa. È importante aver studiato davvero le basi, così che nessun libro ci spaventi. Se in biblioteca troviamo un libro che non riusciamo a comprendere, è necessario scavare e domandarsi che cosa serve per imparare questo argomento. Le basi sono super importanti. L'aritmetica e la capacità di calcolo di base sono molto più importanti nella vita che non il calcolo infinitesimale. Allo stesso modo, sapersi esprimere con chiarezza utilizzando un linguaggio semplice è molto più importante che non essere in grado di comporre poemi, possedere un vocabolario ricercato o parlare sette lingue. Questo piccolo paragrafo che ti ho letto, dal mio punto di vista, è molto affascinante e più o meno coincide con le cose che dico sempre nelle pillole, ovvero che stiamo vivendo in un modo che sta evolvendo talmente velocemente che o siamo in grado di apprendere in maniera veramente immediata ciò che ci interessa e che ritraiamo magari utile per i prossimi anni, oppure saremo sempre indietro. E il percorso, un percorso, anzi, di studi tradizionali non è più sufficiente. Quindi, ok, studiare, laurearsi, eccetera, ma oggi non basta più. Bisogna fare di più, inoltre, inutile. Bisogna fare ancora molto molto di più. E' interessante come Naval Ravikanti sostiene che dobbiamo imparare una nuova competenza in 9-12 mesi e saremo all'avanguardia più o meno per qualche anno, 3-4 anni. Dopodiché quella stessa competenza sarà diventata probabilmente obsoleta. Io, quando faccio l'esempio di apprendere competenze nuove, utilizzo sempre l'esempio dello sviluppo delle app per cellulari. Quando sono arrivati, immaginiamo i primi iPhone, le persone capaci di sviluppare un'applicazione, un'app, un gioco, qualunque cosa, praticamente erano inesistenti perché non c'era nessuno studio che aveva permesso di apprendere quella competenza, ma era necessario studiarla sul campo direttamente dalla fonte, quindi dalla documentazione, ad esempio, fornita dalla Apple, se parliamo di sviluppo via Apple, eccetera. E la cosa interessante è che con l'evolversi della tecnologia, la stessa competenza che hai imparato magari dieci anni fa per fare appunto le app, oggi, se non l'hai portata avanti, sarebbe praticamente inefficace perché molte delle stesse istruzioni di codice, in questo caso una cosa abbastanza tecnica, però è molto probabile che oggi non funzionino neanche più perché si sono evolute anche loro. Quindi è incredibile come il mondo stia evolvendo in maniera veramente, veramente, veramente veloce e riuscire a rimanere più o meno al passo con i tempi, quindi continuare a studiare, a formarsi in continuazione, oggi credo che sia effettivamente fondamentale. Una cosa che sostengo sempre è che questo libro più o meno sostiene la stessa cosa, quindi sono abbastanza soddisfatto di trovare qualcuno che sostenga le mie tesi. In ogni caso, chiediti quando è che ti sei aggiornato l'ultima volta, stai continuando a formarti, a crescere indipendentemente dalla professione che fai? Perché anche una professione statica che nell'immaginario collettivo non si evolve molto velocemente, come può essere un elettricista, un idraulico, quindi lavori abbastanza manuali, anche loro stanno vivendo un'evoluzione molto veloce. Cinque anni fa, dieci anni fa, la domotica non si sapeva neanche cosa fosse, oggi è quasi obsoleta e questo vale in qualunque tipo di settore. Prendiamo un dentista, quanto si sta evolvendo velocemente tutto il settore del mondo dei denti, quindi tutto il settore odontoiatrico, a velocità veramente veramente assurde ed è necessario essere sempre sul pezzo, quindi se non vogliamo restare dietro e inutili nel mondo del lavoro, partiamo dal presupposto che bene o male dobbiamo sempre dedicare qualche ora alla formazione, altrimenti saremo ben presto fuori mercato. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ovviamente consiglio questo libro che è L'almanacco di Naval Ravikant, un libro che mi sta piacendo molto, ripeto ho letto neanche 70 pagine, 67, ma ho trovato già tanti spunti che voglio condividere con te e infatti farò così anche i prossimi giorni. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!